Da tempo i residenti in diversi rioni della città di Nuoro segnalano la presenza di ratti di grosse dimensioni che spuntano fuori dai tombini o daere degradate, senza timore entrano nelle abitazioni o nelle auto causando danni. Nel problema ci siamo occupati alcune settimane fa con la denuncia di un cittadino residente in via Santa Barbara che da tempo deve affrontare una vera e propria invasione di topi. Sulla vicenda interviene oggi il consigliere comunale di opposizione Pierluigi Saiu che ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco. In città negli ultimi mesi si è fatta avanti una nuova emergenza, quella dei topi, scrive Saiu. Lo testimoniano purtroppo tantissime segnalazioni che molti cittadini hanno già inoltrato al comune. Il problema riguarda tanto il centro storico quanto le periferie e in queste dimensioni non si era mai avvertito e solleva più di una preoccupazione, continua l'esponente dell'opposizione. Non è infrequente vedere scorrazzare, soprattutto dopo il tramonto, ratti di grosse dimensioni per le strade cittadine, lungo i muri di case e palazze fra le auto in sosta. L'invasione di ratti, sottolinea Saiu, conferma la mancanza oppure l'insufficienza di adeguati interventi di pulizia e disinfestazione. L'esponente dell'opposizione ricorda di aver ricevuto un gran numero di segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini e per questa ragione si è deciso a presentare al sindaco un'interrogazione urgente. L'invasione dei topi testimonia purtroppo non preoccupante il livello di sporcizia in città e il sindaco ricorda Saiu a competenze specifiche in materia di igiene pubblica. Una città invasa dai topi è evidente, non è una città ben amministrata e alle tante persone che hanno segnalato il problema, conclude Saiu, non interessa che la competenza sia di questo o quell'ufficio, interessa che il problema trovi una soluzione.